Benvenuti, ben trovati in questo nuovo appuntamento con l'approfondimento quotidiano, in questo periodo parliamo essenzialmente di politica perché vogliamo che voi ascoltatori siate in grado di conoscere tutte le visioni dei candidati alle prossime elezioni del Consiglio regionale della Sardegna del 25 febbraio, sia di destra, di sinistra, di centro, autonomisti, noi cerchiamo di dare spazio a tutti, sono spazi elettorali ovviamente a pagamento come dice la legge, oggi abbiamo con noi un grandissimo ospite che arriva da un paese vicino qua ad Alghero, molto legato ad Alghero, prima di far partire la sigla dal nostro regista volevo ricordarvi che proprio oggi stasera alle 18 presso il Cinema Miramare ci sarà l'incontro di Alessandra Todde con i suoi simpatizzanti insieme accompagnata dal segretario del PD Ellie Schlein. Alle ore 17 presso la sede dei riformatori in Via Verdi ci sarà un importante incontro con il candidato Francesco Marinaro e i vertici dei riformatori sardi Pierpaolo Vargiù e Michele Cossa che parleranno di un'importante iniziativa legata al mondo dei nuraghi per essere riconosciuti dal UNESCO. Cara regia salutiamo il nostro regista Paolone Maraviglioso, salutiamo il nostro assistente di studio Giuseppe Iurato, mandiamo la sigla e dopo scopriamo chi è l'ospite di oggi. Rieccoci qua tornati insieme a voi dopo le prime notizie che abbiamo dato di oggi venerdì 9 febbraio, siamo con il nostro gradito ospite, è un sindaco, uno dei tanti candidati in questa tornata elettorale, il sindaco di Ittili in paese vicino a Del Ghero ed è Antonio Sau. Buonasera sindaco. Buonasera a tutte, buonasera a tutti e grazie ad Iceberg per l'opportunità che mi dà di poter dialogare e quindi raccontare quelle che sono le ragioni del mio impegno in questa tornata elettorale. Ecco, in questi giorni di racconti ne sta facendo tanti, quanta gente ha visto fino adesso così, più o meno, fino ad oggi? Tantissima, ma è un po' anche il ruolo che hanno i sindaci, non solo nel rapporto quotidiano che hanno con la propria comunità, ma anche nella necessità di interagire con altri soggetti istituzionali che concorrono comunque al bene della comunità. Ecco, voglio fare una domanda, c'è un po' di gente che lamenta il fatto che un sindaco non si doveva candidare, non lei, un sindaco in generale, che doveva stare vicino alla sua città, stanno criticando molto questo fatto. Lei come la vede? Qual è la sua risposta? Per far cambiare l'idea a queste persone che la pensano così. Allora, un sindaco rimane sempre e comunque vicino e opera nella propria comunità, però è evidente che determinate misure che comunque hanno poi una ricaduta diretta sui cittadini necessitano di interventi che devono essere apportati in Consiglio regionale. I sindaci hanno quella esperienza e il riflesso che poi alcune misure hanno avuto sui cittadini e quindi possono intervenire e concorrere a migliorare la qualità dei servizi, la distribuzione delle risorse, la programmazione di alcuni settori della pubblica amministrazione che poi hanno una ricaduta diretta sui territori. Ecco, ricordiamo ai nostri spettatori che comunque il sindaco, quando è sindaco, dialoga spessissimo con la regione, molto spesso ma anche a Cagliari, come si è trovato come sindaco di Itili con questa amministrazione uscente? Male, male perché la maggior parte delle risorse, basti vedere le leggi omnibus o gli emendamenti alla finanziaria, sono state distribuite in maniera assolutamente discrezionale, senza che ci fosse un coinvolgimento dei sindaci magari attraverso l'Anci, senza che ci fosse un programma generale da parte dell'amministrazione regionale che poi potesse essere interpretato e realizzato anche nei territori. Male perché è stata una stagione particolare, il PNRR è un piano di sviluppo importante, vale molto di più di quello che era stato il piano di rinascita e ci saremmo aspettati che l'amministrazione regionale lo avesse condiviso nei territori, con i sindaci, con il Camere di Commercio, con tutti quegli attori che poi concorrono alla realizzazione di un programma così importante di sviluppo che dovrebbe avere una visione lunga, medio-lunga nel tempo e che presuppone la responsabilizzazione dei territori. Parliamo di un tema caro al nostro territorio, soprattutto al nord-ovest, ne ho parlato anche con gli altri candidati che si sono alternati qui, i trasporti, questa è una domanda fissa che io faccio perché voglio capire un attimino lei come sindaco e come politico qual è la sua visione. Allora noi ci stiamo mettendo, ci siamo messi in mano a un singolo vettore aereo che ha quasi, per non dire tutto il monopolio delle tratte, sto parlando di Ryanair. Come vede questa cosa? La vede positiva oppure stiamo andando contro un monopolista, stiamo andando verso un regime monopolista che alla fine ci creerà dei problemi, come è stato in passato quando avevamo la Italia. Io credo che l'operatore economico, il soggetto economico debba fare il soggetto economico, ma che ha potuto colmare quelli che sono stati i vuoti di programmazione che sono responsabilità della politica. Il governo regionale non ha esercitato il ruolo di programmazione, il ruolo di pianificazione di quella che deve essere la mobilità dei sardi e non solo dei sardi, perché bisogna comprendere che la Costituzione stabilisce che lo Stato rimuove tutti quelli che sono i limiti al libero sviluppo e alla crescita degli italiani. Il fatto di non avere una mobilità uguale a quella dei nostri connazionali è sicuramente un limite che deve interrogare la classe dirigente. Inoltre, anche l'aver riconosciuto il diritto all'insularità è sicuramente uno strumento per riuscire a far leva su quelli che sono gli strumenti di compensazione che i sardi dovrebbero avere rispetto alle difficoltà che hanno nel raggiungere il continente, ma allo stesso modo le difficoltà che hanno nell'essere raggiunti, perché è evidente che la mobilità in entrata e in uscita deve essere garantita ai sardi e ai non sardi e questo è il modo per dare opportunità e valorizzare il nostro territorio e anche per garantire quella che è una crescita culturale e sociale che è un diritto dei sardi. In questi anni questo non è avvenuto, innanzitutto perché c'è stata poca autorevolezza rispetto ad una interlocuzione che la regione deve avere sia con il governo centrale ma anche con il governo europeo. Perché siamo stati deboli in questa interlocuzione? Siamo stati deboli perché non siamo riusciti a far valere i nostri diritti sanciti dalla Costituzione e rafforzati dal riconoscimento dell'insularità e anche perché poi alla fine gli obiettivi e le priorità che un'amministrazione regionale vuole raggiungere sono rappresentati dagli stanziamenti economici. Estanziare sulla continuità territoriale 25 euro ad abitante è una cifra irrisoria. Se rapportato a quello che viene estanziato da altre regioni e nazioni, penso a quello che è in Corsica per la Francia o alle regioni, alle Balearie. Parliamo di un'altra cosa fondamentale riguardo ai trasporti, dopo cambiamo tema. L'unificazione degli aeroporti. Secondo lei, secondo voi, gli aeroporti devono rimanere sotto egida pubblica o meglio, ormai due aeroporti su tre sono privatizzati, ma l'indirizzo che devono avere questi aeroporti, ci deve entrare la politica, è la regione Sardegna che comunque deve dettare un indirizzo, perché qua si parla di territorio, si parla di flussi turistici, si parla della nostra mobilità, è possibile lasciarle in mano a un soggetto privato che oggi decide di mettere 40 voli, domani gira la luna, ne mette 20 e noi ci affossa. Ricordo anche a lei e allo stituto dei spettatori cosa ha fatto Rea Neri in Grecia, dall'oggi al domani ha tolto gli aeri. È ovvio che l'amministrazione regionale deve incidere su quella che è la politica di gestione dei trasporti e quindi delle rotte e anche delle merci, perché? Perché è un servizio pubblico, è un servizio che non è staccato da quello che è lo spazio dei diritti, delle opportunità, della pianificazione, anche di uno sviluppo che una regione vuole realizzarsi e la mobilità è sicuramente un elemento che caratterizza in termini positivi o negativi quello che è lo sviluppo di un territorio e quindi di una regione. Parliamo di sanità, Sindaco. Lei è stato sempre in prima linea, sia come Sindaco ma anche sul problema della sanità. In questi cinque anni la sanità è leggermente migliorata o leggermente peggiorata in Sardegna, secondo voi? È eccessivamente peggiorata, non perché non si partisse da una condizione difficile, però non c'è stata una gestione, c'è stato un subire tutti gli eventi, subirli cercando di rattoppare le varie falde, ma non c'è stata l'idea di una consapevolezza piena di quelle che sono le difficoltà, sia in termini di personale ma anche in termini di organizzazione, in termini di rette tra territori. Non c'è stata un'idea chiara di quello che deve essere la medicina del territorio in relazione al decongestionamento della medicina d'urgenza, non c'è stata una pianificazione, ma ci si è trincerati in tutti questi cinque anni cercando di dare le responsabilità alle amministrazioni precedenti, ma questi sono ragionamenti che possono valere per il primo anno, per il secondo, però dopo cinque anni le responsabilità sono di chi non è comunque riuscito a gestire una situazione, una situazione che ha acuito quelle che sono le fragilità delle categorie più deboli delle nostre comunità, che ha lasciato in là, e lo vediamo in tutti i paesi, ha lasciato in là la sanità privata, vediamo in tutti i paesi il proliferare di piccoli centri sanitari, quelle che sono le trasformazioni anche delle farmacie, che oggi offrono molti più servizi proprio in termini ambulatoriali di quelli che erano i servizi standard che noi abbiamo conosciuto, quindi un privato che coglie il vuoto che sta lasciando il pubblico e che non ha gratis, comunque eroga i servizi ai cittadini e non tutti se li possono permettere. La vostra candidata a presidente ha dichiarato pubblicamente, l'ha fatto per la prima volta a teatro Verdi, che non farà una riforma sanitaria, dice che vorrà, è sua intenzione di far funzionare meglio quella che già c'è, come la vede voi? Ha ragione, non possiamo permetterci di perdere ulteriore tempo, bisogna avere subito con testa di quelle che sono le risorse in campo, cercare di motivarle, cercare di razionalizzarle nei territori, cercare da subito di dare una risposta a quella che è veramente una lacuna e un vuoto che preoccupa i nostri conterranei. Parliamo di risorse, arrivano tanti soldi adesso in Sardegna, si parla di 12 miliardi, questi soldi devono essere spesi bene, devono essere spesi con oculatezza. Voi, ad esempio, sulla sanità, come e quanto intendete spendere di questi soldi, ma soprattutto come per cercare di migliorarla? Allora, innanzitutto bisogna chiarire che arrivano molti soldi perché la Sardegna è rientrata nell'obiettivo 1. È rientrata nell'obiettivo 1 e quello è il primo segno tangibile del fatto che in questi cinque anni i sardi hanno purtroppo subito un mal governo che ci ha rimesso in una condizione di arretrattezza di sviluppo e questo è il primo elemento che deve comunque… Vogliamo spiegare ai nostri ascoltatori perché molti non lo sanno cos'è l'obiettivo 1, quali regioni sono nell'obiettivo 1, sono quelle più… Sono le regioni che sono in arretrattezza di sviluppo che quindi per cercare di colmare i gap di sviluppo che si ha con le altre regioni europee ricevono maggiori risorse. Per la Sardegna è da evidenziare, insomma i nostri ascoltatori devono avere presente il fatto che noi eravamo usciti dall'obiettivo 1 e ci siamo ritornati e questa è probabilmente evidentemente una colpa anche di questo governo regionale. E come intendiamo spendere queste risorse? Rimaniamo sulla sanità? Io ho un concetto chiaro di sanità che condivido spesso col mio partito. La sanità deve concentrare le urgenze in due, tre hub principali che possono essere comunque facilmente raggiungibili da tutti i sardi e poi deve finalmente prendersi cura della cronicità perché oggi abbiamo tantissime persone che fortunatamente convivono per tanti e tanti anni con una patologia che forse 30 anni fa ne avrebbe decretato il decesso e questo presuppone che un servizio sanitario debba prendere in carico per tanti anni delle persone che hanno necessità di accessi continui alle strutture ospedaliere ma di accessi per prestazioni sanitarie a basso costo. Non essendoci strutture che erano a questo tipo di prestazioni a basso costo vanno a congestionare le strutture d'urgenza che sono quelle che comunque hanno dei costi nell'erogazione dei servizi che sono maggiori. Quindi bisogna potenziare in questo i territori, i territori possono assolvere a questo ruolo e poi bisogna potenziare la prevenzione, quindi poi gli ambulatori che oggi hanno delle fili d'attesa troppo lunghe, cioè fare in modo che i fruitori del servizio sanitario pubblico abbiano prima dell'accesso ai servizi di urgenza, abbiano nel territorio e in prossimità la possibilità di avere quei consulti medici che sono sempre più necessari a una popolazione che invecchia. Un aspetto importante che dovremmo contemplare è la presa in carico vera ed effettiva di tutta quella che è la sfera delle patologie psichiatriche che oggi purtroppo non hanno una presa in carico vera, che sono purtroppo trascurate, condizionano negativamente quella che è la vita delle nostre famiglie, che non trovano una risposta adeguata. Non solo in termini di erogazione di terapie sanitarie, ma anche in termini di valorizzazione delle persone rispetto all'abilità residua, rispetto ad attività che comunque possono gratificare e dare dignità a chi oggi è affetto da patologie psichiatriche e dobbiamo anche avere presente un aspetto, sempre più alcune di queste sono determinate comunque da appoli abusi che sono sempre più frequenti nei nostri giovani, da questo punto di vista dovremmo attivarci sia con iniziative di prevenzione rispetto a questo tipo di condotte, ma anche con la consapevolezza di quello che determinano comunque l'assunzione di sostanze che spesso sono sintetiche e che compromettono la vita sanitaria dei nostri giovanissimi e che comunque impegnano il servizio sanitario pubblico. E sulla risorsa umana, sui medici che mancano? I medici mancano e quindi bisogna, da questo punto di vista se ne è preso atto, bisogna investire sulla formazione dei medici, però allo stesso tempo quelli che ci sono vanno sgravati di alcuni oneri che non ne fanno fruire efficacemente i nostri cittadini, perché troppi medici di base oggi sono oberati dalla burocrazia, passano più tempo sulle carte che non invece a contatto con i pazienti e quindi anche da questo punto di vista bisogna pensare ad un supporto in termini di segretariato e farci che i medici finalmente riescono a fare i medici. Avete anche in mente di pagarli di più questi medici? Certo. Sarebbe ora di pagarli un po' di più? Sarebbe ora di pagarli di più. Salvano le vite, porca. Salvano le vite, hanno dei percorsi comunque difficili di formazione, sono un anello determinante che qualifica comunque la qualità di vita delle nostre comunità, con una preoccupazione forte. La riforma che ha in mente lo Stato, l'autonomia differenziata, può e potrà, se andrà in porto, spero di no, consentire alle singole regioni anche di decidere di aumentare singolarmente gli stipendi ai medici. Questo potrebbe determinare una migrazione dei medici verso le regioni più ricche. Si crea un mercato. Si crea un mercato. Come calcio mercato. Esattamente. In una ragione. E quindi si sgretola il concetto proprio di servizio da rendere in maniera efficace a tutto il territorio nazionale. Insomma, bisogna investire un sacco di soldi. Io, secondo me, dico che la sanità in Sardegna ha la priorità assoluta. Sanità e istruzione. Adesso parliamo di istruzione. In Sardegna c'è un'alta percentuale di abbandono scolastico. L'istruzione è un pilastro insieme alla sanità, insieme all'ordine pubblico. Che cosa avete? Qual è la sua? Adesso lasci stare l'idea del partito. La sua idea personale sull'istruzione. Qual è? Innanzitutto bisogna riqualificare gli spazi interni ed esterni ai presidi scolastici. I ragazzi devono seguire percorsi sicuramente di formazione didattica ordinaria, però avere anche la possibilità di avere all'interno dei presidi scolastici la possibilità di avere interventi anche di recupero, di sostegno, di comunque perfezionamento di quelli che devono essere gli strumenti di apprendimento che a volte se soffrono di qualche leggera difficoltà possono creare marginazione, possono creare comunque la difficoltà che lo studente ha nel tenere il passo con il resto della classe. Quindi da subito noi dovremo avere una scuola che si renda conto di chi ha bisogno di potenziare gli strumenti in modo che attraverso quegli strumenti possa rimanere al passo della classe e quindi non isolarsi e non finire nell'emarginazione che molto spesso purtroppo poi porta anche a un'emarginazione più ampia che determina anche altro tipo di problemi all'interno delle comunità che poi si riverbano anche su condizioni comunque di sofferenza che poi stanno alla base delle difficoltà di convivenza sociale tra contanti. Dei rapporti interpersonali sì. In questi giorni, sendo che abbiamo visto, non abbiamo mai visto così tanti trattori in Cino per l'Italia, per l'Europa, parliamo di agricoltura perché alcuni ascoltatori ci hanno un po' criticato a cara regia che noi parliamo poco dell'agricoltura e oggi parliamo di agricoltura, lo facciamo con un sindaco di un paese di cui l'agricoltura famosa per i carciofi e non solo ma anche per il formaggio, avete una cooperativa fantastica che fa un ottimo formaggio. Ecco l'idea sua dell'agricoltura, perché questi elevatori, queste persone che vivono dall'agricoltura, dal lavoro della terra, si lamentano così tanto, questa riforma dell'IRPEF che ha fatto il governo Meloni era proprio necessaria farla, togliere questi sgravi dell'IRPEF. Sappiamo che in agricoltura sì ci sono tanti, ci sono dei sostegni, però insomma è una vita dura, basta anche una stagione che magari non piova per niente o piova troppo e un raccolto se ne va a farsi benedire. Come la vede lei questa cosa qua? Ma io innanzitutto voglio esprimere proprio la massima solidarietà al comparto. Qua in Sardegna, ne ho parlato del nord-ovest della Sardegna, chi oggi opera in agricoltura fa agricoltura eroica, perché le aziende agricole sono completamente o quasi completamente prive di infrastrutture, basti pensare a quelle che sono restate di penetrazione agraria, l'elettrificazione, le difficoltà che ancora in troppi territori si ha nel poter attingere alla risorsa principale che è l'acqua. Tutto quello che ha determinato e che determina ogni aumento energetico, l'essere poi soggetti più di altre attività a tutti i cambi climatici che comunque sulle produzioni determinano un danno importante. Ma perché siamo arrivati a questo punto? Ma è possibile che nessuno capisca che mangiare bene, perché non è che ci troviamo tra poco tutti mangiare insetti, larve, la carne sintetica? Purtroppo colpevolmente, ma soprattutto in Sardegna non si è mai visto nell'agricoltura un settore strategico per dare benessere alle nostre comunità. Basti pensare a quello che è anche il fatto che siamo riusciti in questi anni a sconfiggere, a debellare la peste suina, non c'è stata nessuna politica che abbia favorito questo tipo di mercato, il mercato e la trasformazione delle carni suine che in tante regioni danno diversi punti di pil. Francesco si chiede perché non l'abbiamo fatto? Non l'abbiamo fatto perché non ci abbiamo creduto, perché non vediamo, l'amministrazione regionale non vede in quel comparto un settore strategico per creare sviluppo e benessere e allora vado ancora più a fondo, perché non lo vede? Per questione di competenza? Per questioni di, non lo so, a questo punto la gente si chiede, ma insomma dell'agricoltura, siamo nati dell'agricoltura, viene fuori il pane, il grano, la carne, tutto, come mai c'è questa mancanza? Secondo me è una mancanza di competenza, perché è una mancanza di competenza, di attenzione e anche proprio di programmazione, cioè in agricoltura in questi cinque anni non si è fatto niente, non si è fatto niente e il poco che si è fatto in passato è stata la gestione dei PSR, ma non c'è stata veramente una programmazione politica che facesse emergere gli investimenti in agricoltura come strategici per tutta la regione. Ed è evidente se andiamo a vedere le nostre aziende, le nostre aziende sono ubicate e sono anche difficilmente raggiungibili, gli operatori hanno praticamente dei mezzi che utilizzano, sono dedicati solo al trasporto nelle proprie aziende, perché alla fine bisogna sacrificare il mezzo per andare in campagna, io vedo quello che è la difficoltà di gestire con le poche risorse che ci vengono date, a Italia abbiamo 200 km di strada di penetrazione agraria, ma in regione 200 km di strada di penetrazione agraria e quindi seguirle con le risorse del Fondo Unico è difficile e impossibile, noi cerchiamo di fare il massimo, però c'è bisogno di investimenti regionali forti, perché oggi chi va in campagna, chi vuole attrarre in agricoltura intelligenze, chi vuole attrarre competenze, deve innanzitutto infrastrutturare e consentire delle condizioni di vita, anche dal punto di vista fisico, dal punto di vista mentale, che siano comunque sostenibili, oggi io parlo e ribadisco, si fa agricoltura eroica. Perché poi è tutto collegato al turismo, io adesso ne racconto un fatto, sarò velocissimo, a dicembre sono stato per lavoro a Seulo, salvo di Seulo, nel cuore della Barbagia, salutiamo l'amico Enrico Murgia, sindaco di Seulo, e parlando lì, si è andato a fare dei servizi, e parlando lì con le aziende agricole, c'è un'azienda agricola di Massimo, che saluto, che fa formaggi di campagna, dice che d'estate lì arrivano gente appositamente da Villa Simius, vanno lì a prendere il formaggio, adesso dicono andare da Villa Simius, andare fino a Seulo, la strada la conosce com'è per arrivare a Seulo, cioè è un forte richiamo questo dei nostri prodotti, come mai? Allora dico, invitiamo e la invito a cercare di essere diciamo così più persuasivo, di agire con una forte moral suizion verso il prossimo consiglio regionale, perché la gente chiede queste cose, se non abbiamo più aziende agricole, non abbiamo più agricoltori, queste cose spariscono, e il turista magari non ci viene, perché spesso e volentieri viene per conoscere queste cose qua. Ma certo, il cibo, il buon cibo è sicuramente un elemento digitale ed è un grande attrattore, se poi pensiamo che queste aziende molto spesso sono anche ubicate in territori che sono anche ricchi di storia, ricchi di attrattori culturali che sono purtroppo abbandonati e che invece potrebbero rafforzare le nostre aziende anche in termini di attrattività. Se penso che oggi insomma tutto quello che è l'opportunità anche di far conoscere le nostre aziende, i nostri territori attraverso la rete in tutto il mondo, bisogna puntare sulla raggiungibilità di questi luoghi e ci vuole insomma un insieme di politiche di sistema che partano dalla mobilità alla pianificazione urbanistica in termini poi di individuazione degli spazi nei quali comunque creare strutture ricettive, le politiche ambientali, le politiche energetiche perché è impensabile anche che non ci sia un governo e una pianificazione del territorio anche in termini di maggior produzione di energie da rinnovabili che non contempli la presenza di aziende e quindi insomma che trovi una compatibilità tra quello che deve essere lo sviluppo agricolo e ricettivo e quello che deve essere il rafforzamento della produzione di energie rinnovabili. E anche da questo punto di vista io non ho notizie e informazioni di una stagione di pianificazione da questo punto di vista e questo è una lacuna molto molto grave che dovrà essere colmata subito. Io credo molto soprattutto nella pianificazione, nel fatto che vada disegnata la Sardegna che vogliamo, la Sardegna che vogliamo che contempli gli spazi di sviluppo agricolo, gli spazi di approvvigionamento energetico, gli spazi di fruizione naturalistica, storica e culturale e che in questa visione poi debbano essere indirizzate le risorse e un programma a medio e lungo termine che sicuramente deve fare da cerniera tutte queste esigenze e potenzialità che possono sicuramente dare risultati maggiori. Prima di fare l'ultima domanda, l'ultimo ha usato molto le parole pianificazione e programmazione, è proprio quella cosa che manca perché anche gli altri candidati ho visto che si sono soffermati su questo aspetto. Allora caro sindaco, adesso io le indico quella che è la sua camera e la invito a fare non un appello, deve dire perché l'elettore dovrebbe scegliere lei, sindaco d'Itili, per avere la responsabilità di governo nel prossimo Consiglio regionale. Innanzitutto deve scegliere Alessandra Todde, poi io metto a disposizione la mia faccia, il mio vissuto, principalmente perché sia Alessandra Todde il governatore della regione Sardegna, naturalmente con la speranza e l'ambizione di essere tra gli eletti, ma con l'orgoglio di metterci la faccia e di dare il mio contributo. Deve essere Alessandra Todde perché Alessandra Todde è una donna, una donna che ha visto nella sua candidatura la condivisione di una coalizione, di una coalizione che ha fatto un percorso per individuarla come candidato, un percorso fatto dai partiti che hanno degli organismi eletti attraverso congressi democratici, perché Alessandra Todde ha un'esperienza comunque di governo, un'esperienza nazionale, ha un curriculum professionale che ne evidenzia le competenze, perché Alessandra Todde è l'unica che rappresenta il cambiamento. Il cambiamento oggi è l'esigenza principale che hanno i sardi e che rappresentano tutti i giorni con la loro sofferenza, con il loro viso, con la voglia di inaugurare una stagione diversa, una stagione che deve vedere i sindaci, anche i sindaci protagonisti, perché i sindaci sono quelli che hanno contesta delle difficoltà, che hanno visto quello che è il risvolto delle politiche regionali sui cittadini e quindi l'inefficienza che poi ne viene determinata, hanno visto quello che è lo smantellamento del servizio sanitario, hanno visto quello che è anche la mancanza del sostegno alle difficoltà, all'indigenza. Noi pensiamo che è di un anno il ridimensionamento del reddito di cittadinanza e che tutto questo ha portato nelle nostre comunità la difficoltà, la paura, l'angoscia di chi non ha più il sostegno. Ci saremmo aspettati che la Sardegna su questo avesse investito un po' di più nel resi, nel sostegno, nella scommessa che una regione deve fare anche su chi è in difficoltà, perché anche in quelle famiglie in difficoltà ci sono dei figli che meritano di accedere al servizio pubblico scolastico, meritano di crescere e meritano di essere un investimento per la nostra regione. Bisogna credere molto di più su una distribuzione di risorse che deve avere dei criteri, criteri di equità, criteri di pianificazione, criteri di sviluppo e non la discrezione con la quale si danno le risorse per averne subito e immediatamente solo e sicuramente un ritorno elettorale creando anche iniquità e acquendo quelle che sono le divisioni sociali. Dobbiamo credere in Alessandra Todde perché è l'unica alternativa a questo governo di centrodestra, chi vuole voltare pagina non ha un'altra alternativa. Il voto di Alessandra Todde è un voto contro il centrodestra, il voto di Renato Sur è un voto per il centrodestra. Mi dispiace dirlo, però l'unica alternativa è Alessandra Todde e purtroppo Renato Sur non è in campo. Ci saremmo aspettati che fosse stato con noi, che avesse avuto la riconoscenza della fiducia che gli abbiamo dato in questi anni, cioè quella di essere il nostro presidente della regione, il nostro deputato, segretario di partito. Oggi ci saremmo aspettati quelle sue competenze e quella sua autorevolezza al servizio di una classe dirigente più giovane, più nuova, una classe dirigente che è rinnovata ma che ha esperienza amministrativa, che può dare risposte importanti e che con il vostro sostegno riuscirà a cambiare le sorti di questa regione. Beh, come fuo che l'artificio finale sonoati bene. Bene, noi ringraziamo il sindaco Ditti di Antonio Sau e gli auguriamo ogni bene, gli auguriamo veramente vivamente che lei possa essere seduto in quei 60 posti del Consiglio regionale della Sardegna. Consentitemi una battuta finale, ve lo auguro anche io. Grazie, alla prossima puntata, la prossima settimana avremo con noi Piero Maieli. Arrivederci, arrivederci Silberto. Grazie. Iceberg, approfondimento quotidiano. Inonda tutti i giorni dal lunedì al venerdì. Commenteremo e approfondiremo insieme agli ospiti gli argomenti di stretta attualità.